A quanti di voi hanno mai hackerato l'account Facebook e Instagram, TikTok, Twitter, magari l'indirizzo email principale se non persino la banca online? Beh gente, spiace dirlo perché oggettivamente è una verità decisamente scomoda che nessuno vorrebbe sentirsi dire, ma è verosimile, estremamente verosimile in realtà, che la colpa di tutto ciò sia vostra, vostra ed è la superficialità con la quale siete indotti ad approcciarvi a considerare l'argomento password, non dandogli il giusto peso e l'importanza che invece gli sarebbe dovuto. E prima di linciarmi per questa affermazione, ditemi, vi siete mai chiesti se la vostra password è veramente sicura? Ne utilizzate una diversa per ogni account che possedete oppure no? Le cambiate con regolarità? Ma soprattutto, vi siete mai preoccupati di crearle seguendo quelle che sono le best practice, le, diciamo, linee guida sull'argomento? Per molti, moltissimi di voi la risposta sarà sicuramente no a tutte le domande e questo perché, come dicevo prima, si tratta di un comportamento, di un pensiero indotto. Quando mai sentite parlare seriamente di quest'argomento, sui social, in televisione o tra amici? Sì, al massimo arriva quello che vi dice, sai, mi hanno carato l'account di Facebook, oppure gli dedicano un trafiletto di 10 secondi al telegiornale, ma finisce lì. Pertanto, come può un non addetto ai lavori, un qualcuno inesperto in campo informatico, comprendere da solo l'immane gigantesca importanza che hanno le password in questo nostro più che mai informatizzato XXI secolo? Semplicemente non può. E la causa di ciò, lo ribadisco nuovamente, è in primis la disarmante semplicità delle password utilizzate dagli utenti. Ma attenzione, questo non lo sostengo io nel mio piccolo, ma fior fior di analisi portate avanti da grandi eminenze del settore informatico mondiale, come ad esempio Kaspersky, AVG, Avast, NordVPN, ExpressVPN e tanti tanti altri. Pertanto, people, allacciate le cinture perché nei prossimi minuti vedremo insieme quali sono i principali metodi utilizzati dagli hacker per infiltrarsi nei nostri account e altrettanto, soprattutto direi, come fare per difenderci creando una password a prova di bomba, ma che sia letteralmente a prova di bomba, alla quale vi illustrerò altrettanto come testare in termini di sicurezza ed affidabilità per appurare se lo è per davvero oppure no. Ed infine, giusto per farci quattro risate, anche se in lea di massima credo ci sarebbe di più da piangere, vi rivelerò quali sono state le password più utilizzate in Italia e nel mondo durante il 2021 e lì credo capirete se ora dico che in fondo un pochino ce lo meritiamo di essere hackerati. Ma prima di cominciare, come sempre, se non l'avete ancora fatto, vi invito a seguirci su tutte le nostre pagine social e ad iscrivervi al canale per supportarlo attivamente ed altrettanto ricordatevi anche di attivare la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sulle ultime pubblicazioni. Ogni giovedì ore 12 e 30. Anzitutto una doverosa premessa, ovvero che diversi degli argomenti che tratteremo quest'oggi andranno a toccare questioni delle quali abbiamo già discusso in passato nei precedenti video inerenti alla cyber security, i quali troverete tutti quanti i contenuti all'interno della playlist omonima e che vi lascio ovviamente linkata sia qui sopra on screen che in descrizione. Pertanto, casomai doveste avere dubbi o incertezze, oltre ovviamente ad essere liberissimi di porre domande qui sotto nei commenti, vi rimando alla visione degli stessi, i quali sono certo potranno fugare ogni vostro possibile dubbio. E comunque, nel caso, siamo qui per quello. E detto questo, iniziamo subito il video di oggi facendo presente forse un'ovvietà ma che ritengo vitale, ovvero che quando si crea una password lo si deve fare veramente con il concetto di voler partorire un qualcosa di estremamente, realmente complesso ed intricato, che almeno in teoria possa risultare impenetrabile per qualsiasi uomo o macchina. E questo perché gli hacker, fondamentalmente degni di questo nome per fare, diciamo, un unico paniere della cosa, difficilmente sono persone che si mettono a tentare di azzeccare la nostra password a suon di milioni di tentativi a fallo di segugio, quanto più esperti, tecnici del settore, che si avvalgono di software e dispositivi debitamente programmati. Per questa ragione è fondamentale creare password complesse, non tanto per mettere in difficoltà la persona fisica, il malintenzionato in sé per sé, quanto più tutti quei software e dispositivi che egli andrà ad impiegare, mettendo altrettanto in pratica una serie di tecniche tuttora efficacissime. Prima fra tutte la cosiddetta tecnica del dizionario, dove il software in questione utilizza per l'appunto le parole contenute all'interno del dizionario, combinandole nei modi più classici. Questo perché in moltissimi casi gli utenti, per pigrizia oppure voi perché hanno paura di dimenticarsele, utilizzano come password, scelgono di utilizzare come password frasi di uso comune oppure spezzoni delle stesse, come altrettanto, non so, titoli di canzoni, titoli di serie tv, titoli di film e simili. Tutti i scenari che questa tecnica riesce a superare con una facilità disarmante. Segue il classico dei classici, ovvero l'analisi dei social network, una vera miniera d'oro per tutti gli hacker. Questo perché con ancora più frequenza dello scenario di qui sopra, gli utenti sono portati ad utilizzare come password il proprio nome o cognome, quello della moglie, quello del marito, quello dell'animale domestico, la propria squadra del cuore o una particolare località geografica, ovvero tutte informazioni facilmente reperibili sui social network. Seguono poi i cosiddetti attacchi brute force, ovvero di forza brutta, vale a dire tutti quelli dove si vanno ad impiegare software automatizzati, che generano tutte le possibili combinazioni tra caratteri alfanumerici, nel tentativo di azzeccare la nostra password. Tuttavia, esattamente come abbiamo fatto presente nel video relativo all'autenticazione a due fattori, che se vi siete persi vi lascio anche qui linkato on screen e in descrizione, si tratta di una tecnica ad oggi non più utilizzabile in diversi contesti, in quanto sono già innumerevoli i software e i dispositivi programmati per bloccarsi dopo un tot di tentativi falliti, 5 se non ricordo male, come ad esempio la banca online o anche soltanto il nostro smartphone. Next, il phishing e lo smishing, anche qui due classiconi intramontabili, dove il malintenzionato di turno vi fa pressioni per convincervi a dargli soldi oppure informazioni preziose. Solitamente risultano estremamente convincenti, e nanzi spesso impersonano enti affidabili oppure persone che conoscete anche voi stessi, come ad esempio nel caso di qualche anno fa, che forse ricorderete di quei messaggi che giravano sul messenger di Facebook con la dicitura, ma sei tu in questo video con un link di dubbia provenienza al di sotto, oppure anche tutti quegli sms che riceviamo solitamente dalla banca, banca, poste, corrieri e via discorrendo, con anche qui dei link che vi viene richiesto di cliccare per completare quella datazione, oppure ancora minacciandovi apertamente e millantando ritorsioni a 360 gradi, come ad esempio perché dicono di avervi registrati attraverso la webcam del computer oppure dello smartphone durante momenti... privati? E per non vedervi sbeffeggiare sul web dicono di voler essere pagati una determinata cifra, solitamente che strano in cripto. Ecco, in tutti questi casi, dei quali peraltro abbiamo già parlato nel video inerente delle reti wifi pubbliche, il quale, indovinate un po', se vi siete persi, trovate sia un screen che in descrizione. Si tratta per l'appunto di trappole nelle quali non dovete cadere, prestate sempre la massima attenzione e leggete tutto riga per riga, parola per parola di ciò che vi trovate davanti, che siamo una mail, un sms, un graffito, un tatuaggio, e nel dubbio chiedete a qualcuno che ne sa più di voi, o addirittura, meglio ancora, chiamate direttamente il consenter del servizio in questione. Mentre invece, se siete voi tra quelle categorie di cui abbiamo parlato all'inizio e scegliete volutamente password semplice per timore di dimenticarvele, mannaggia, vi rimando al video inerente il miglior gestore di passo gratuito sul mercato, del quale abbiamo parlato poco tempo addietro, e che vi lascio linkato sia qui sopra on screen che qui sotto in descrizione, grazie al quale riuscirete a risolvere ogni problema inerente. E questo ve lo assicuro. Infine, elemento critico spesso sottovalutato, ma del quale fondamentalmente non abbiamo noi il controllo diretto e che si rivela anche qui un'ottima fonte di informazioni per gli hacker, sono le violazioni e i furti di dati avvenute in passato, argomento del quale abbiamo parlato nel video relativo ad HIVP, il quale, vabbè, non ve lo sto neanche a ripetere, sapete benissimo che cosa fare se ve lo siete perso, attraverso le quali molti dati personali, comprendenti indirizzi mail, generalità e tanto altro, sono stati trafugati e pubblicati in rete. Questo perché le aziende, anche enormi come può essere una Google o una Facebook, vengono prese di mera sempre più spesso negli ultimi anni, e gli hacker sanno benissimo come riperire queste informazioni sul web. E di fatti a tal proposito ciò è particolarmente estremamente rischioso, caso mai abbiate voi la stessa password da lungo tempo, e con ciò si intende mediamente da oltre sei mesi, un anno indicativamente, e tra l'altro in uso su più account diversi, in quanto sono proprio le password più datate e più comuni ad avere le maggiori probabilità di vedersi compromesse. E conclusa questa scarrellata di rivelazioni dierei decisamente poco incoraggianti, veniamo ora al nocciolo di questo video, ovvero a come creare, a come si crea una password degna di questo nome, una vera password a prova di bomba. Che sì, attenzione, però, lo specifichiamo, non significa che una volta fatto potrete dirvi al sicuro per sempre da ogni possibile minaccia informatica, ma vi garantirà comunque un eccellente livello di protezione da tutti gli attacchi esterni. E altrettanto, se avrete poi l'accortezza di abbinarla anche con la famosa autenticazione da due fattori, argomento del quale abbiamo già parlato abbondantemente in uno dei precedenti video, e che se vi siete persi vi lascio come sempre linkato sia qui sopra on screen che in descrizione, ecco che allora potrete dirvi in una discreta botte di ferro. Tuttavia, e lo vado a specificare perché si tratta davvero di una malsana abitudine diffusissima, non dovete concepire la vostra password super sicura per poi utilizzarla indiscriminatamente su qualsiasi sito web di questo pianeta, perché così facendo, esattamente come dicevamo a pocanti, ne andrete ad abbassare drasticamente l'efficacia, rendendola non inutile, però estremamente meno sicura. Pertanto, per quanto so, possa essere vista alle volte come una noiosa perdita di tempo, dovreste crearne una diversa per ogni account che possedete, ponendo la massima attenzione quando si tratta di profili sensibili come ad esempio la banca online o la mail. Le linee guida generali per la creazione di una password come si deve prevedono l'utilizzo di almeno minimo 8 caratteri, di cui una lettera maiuscola, una minuscola, un numero e un carattere speciale, e che sia, lo ribadiamo per la tracentesima volta, in uso su di un singolo account per volta. Ma questo attenzione come minimo, d'accordo? Perché infatti una password che si rispetti, che sia veramente degna di questo nome, che potrebbe definirsi abbastanza prova di bomba, non ne contiene meno di 10, 12 alfanumerici e soprattutto univoci, ovvero che non si ripetono mai all'interno della medesima stringa, e dove inoltre sono totalmente assenti parole di senso compiuto e sequenze numeriche di qualsivoglia lunghesta e complessità. Ma passando dalla teoria alla pratica, si può dire che esistono due approcci differenti quando si tratta di creare password affidabili. Il primo prevede l'utilizzo, l'impiego delle cosiddette passphrase, ovvero, detto banalmente in italiano, frasi password, mentre invece il secondo di stringhe alfanumeriche totalmente casuali. Il primo si basa su di una combinazione casuale di parole realmente esistenti all'interno di un dizionario, quindi parole anche di uso comune, alle quali vengono sostituite alcune lettere con numeri e caratteri speciali che ricordano le stesse. Ma vi faccio un esempio banalissimo. Mettendo a caso che la mia password fosse itSupport, e ovviamente direi scontato, non lo è, utilizzando questa logica e questo concetto potrebbe facilmente diventare una cosa di questo tipo. Tuttavia, dal momento che questa tecnica viene utilizzata principalmente per meglio riuscire a memorizzare e ricordare le proprie password, io non l'amo particolarmente, anzi non la consiglio nemmeno, perché dal momento che ci siete arrivati voi a questa combinazione ci posso arrivare pure io oppure qualcun altro e figuriamoci un software. Tuttavia, è comunque abbastanza sicura per riuscire quantomeno a deludere la cosiddetta tecnica del dizionario. E quindi, come credo avrete già inteso, io personalmente propendo decisamente per la seconda opzione, la quale approccia la questione password da un punto di vista nettamente più analitico, andando ad impiegare stringe alfanumeriche di lunghezza e composizione variabile, impiegando numeri, lettere e caratteri speciali, le quali, essendo quantomeno in teoria prive di qualsiasi logica e senso, risultano estremamente difficili da indovinare e bypassare, ma altrettanto anche da ricordare. E difatti, esattamente come abbiamo fatto presente nel video relativo al miglior gestore di passo gratuito sul mercato, il quale, se vi siete persi, come sempre, trovate linkato on screen e in descrizione, io personalmente utilizzo anche attualmente Bitwarden, senza il quale, non lo nego, sarei completamente perso. E per rispondere ad una domanda che mi sento porre in realtà abbastanza spesso, per generare questo tipo di password, si può sì digitare a casaccio sulla tastiera, ma altrettanto appoggiarsi a tutti quei siti e servizi che si occupano espressamente di generare password lunghe e complesse. Tuttavia, sebbene online se ne trovino davvero a profusione di questi siti che mi lanterano di essere i migliori in assoluto sulla piazza, di fatto, sono davvero pochi quelli che possono freggiarsi di questo titolo. Ed io, personalmente, ve ne vorrei consigliare qualcuno, i quali, oltre ad averli utilizzati per lungo tempo, sono anche effettivamente riconosciuti come alcuni dei migliori, ovvero Random.org, Wolfram Alpha e soprattutto GRC Ultra High Security, dei quali troverete ovviamente i link in descrizione. Tuttavia, però, attenzione, perché sebbene si riportino esplicitamente di non conservare alcun dato all'interno dei loro server e di trasmettere questi in forma criptata, di fatto, la pratica migliore in termini di sicurezza sarebbe quella di generare voi stessi in prima persona le password più importanti. Questo nel senso che, e attenzione, è un consiglio mio personalissimo, il quale sapete benissimo che tra le due, però prendo più sul paranoico quando si tratta di sicurezza, potete utilizzare liberamente questi servizi per tutti quanti i vostri profili con, diciamo, minor criticità. Mentre invece ve lo sconsiglio caldamente quando si parla di indirizzi email, dati personali o banca online, ovviamente. Bene, gente, abbiamo capito come creare la nostra password a prova di bomba con la giusta lunghezza e complessità. Ma se adesso volessimo anche verificare, mettere alla prova, se all'altro pratico questa è davvero impenetrabile come sembra, basterà rivolgersi ad uno di quei tanti siti che defettua specificatamente questo tipo di servizio, come ad esempio Password Meter, Password Strength Checker, Nord Pass e infine lo UIC Password Strength Test, dei quali troverete ovviamente i link in descrizione. Tuttavia vale lo stesso discorso di poc'anzi, ovvero che anche in questo caso si tratta di dare i nostri dati personali password, quindi dati estremamente sensibili, in chiaro, in gestione a qualcun altro. E per quanto questi siti che vi ho citato, come tanti altri, sia chiaro, siano a tutti gli effetti sicuri e perfettamente certificati dal lato della privacy e della tutela dei dati personali, io personalmente, e anche qui torniamo al discorso di prima delle due, propendo sicuramente di più per il paranoico, non li utilizzerei. In quanto se avete seguito la lettera a quanto vi ho spiegato nei minuti precedenti, la vostra è una Password assolutamente a prova di bomba. E questo senza discussione alcuna. E quindi, gente, veniamo ora al tanto atteso momento tragicomico della giornata, dove più che da ridere ci sarebbe in realtà da mettersi le mani nei capelli, ovvero l'elenco delle password più utilizzate al mondo nel 2022, perché quei 950 milioni dell'anno scorso, a parer mio, ma spero vivamente di sbagliarmi, anche se ne dubito, sono stati ampiamente superati. Anyway, dati alla mano estrapolati dall'analisi di NordPass, della quale ovviamente trovate il link in descrizione, la password più utilizzata al mondo nel 2022 è Rullo di Tamburi. Giuro, non è uno scherzo, vorrei che lo fosse quanto vorrei che lo fosse, ma è la pura verità. By the way, la seconda in classifica è l'immancabile, insostituibile e unica, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ma che dire della terza? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, della quarta guest, che in realtà ha anche un filo di fantasia, ma è la quinta, la quinta quanti ricordi che mi riporta alla mente. Querti. E aprendo una piccola parentesi specifica per il bel paese, stendiamo ora un velo pietoso grosso quanto una coperta invernale, perché la classifica vede al primo posto 1, 2, 3, 4, 5, 6, al secondo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, al terzo password, ed in sequenza a scalare verso la decima posizione troviamo Ciao, ciao, Juventus, Napoli, ciao, 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 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ed infine Martina. E il tutto tra l'altro, perché poi anch'io che lo sto a specificare, che è quanto mai ovvio, scritto in minuscolo, e poi ci andiamo a lamentare che riesco ad hackerarci, chissà come mai. E purtroppo è con questa pietosa parentesi che andiamo a concludere il video di oggi a tema cyber security. Io come sempre vi ringrazio per avermi seguito fino a questo punto, ascoltandomi, spero vivamente con interesse, ma ditemi, sono stato abbastanza chiaro, vi ho chiarito i dubbi in materia, ma soprattutto andrete a correggere tutte le vostre password adeguandole ai requisiti minimi di complessità di cui abbiamo parlato poc'anzi, ma soprattutto vi prego, vi prego, vi scongiuro, ditemi che non fate parte voi degli utilizzatori di quelle ultime 10 password che abbiamo nominato tra le più utilizzate nel 2022, altrimenti, giuro, faccio i bagagli e me ne vado a Onulul con Mago Merlino. Fatemelo sapere qui sotto nei commenti, sono sempre curioso di sapere la vostra opinione e mi raccomando, se il video vi è piaciuto, ricordatevi di spalliciarlo prima di andare via. Io sono Doc, questo è IT Support e noi ci vediamo giovedì prossimo alle 12.30 con un nuovo episodio. Non cambiate canale. Grazie. 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 Grazie.